Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi lunedì 1 ottobre, vi vi ho appuntamento questa sera, come sapete, a Quarta Repubblica. Stasera ci sarà Luigi Di Maio, quindi cercheremo di capire con lui quello che oggi leggiamo sui giornali, cioè della manovra finanziaria su cui lo stesso Di Maio oggi sui giornali tutti quanti praticamente riportano la sua dichiarazione di ieri, terrorismo mediatico sullo spread. Il primo a rispondere è proprio Alessandro Sallusti dal giornale che dice troppo onore ai titoli del giornale, caro Di Maio non so se ci fai o ci sei ma è difficile pensare che siano i titoli dei giornali a condizionare l'andamento dei mercati. Sulla manovra intervista Cottarelli, l'uomo che oggi con la scarsa curiosità e anche originalità che abbiamo noi giornalisti viene sentito come un prezzemolino da tutti quanti, che cosa ne pensa della manovra? La cosa che guarda di più Cottarelli come rischio è la crescita prevista, cioè dell'1,6% nel 2019 che è prevista dal documento di economia e finanza di Tria, dice per fare una cosa di questo tipo dovremmo crescere alla velocità della luce, cioè lo 0,4% nel primo quarter del 2019 e poi lo 0,5% per arrivare all'1,6, difficile visto che oggi cresciamo allo 0,2%, cioè sostiene che si tratta di una balla. Il fatto quotidiano nota una cosa che in parte avevamo notato anche noi ieri nella zuppa e cioè che Conte, Savona e Tria ieri fanno tre diverse interviste su tre diversi giornali ma tutti e tre hanno tre manovre diverse. Savona parla di una crescita al 3%, Tria e Conte all'1,6%, investimenti che vengono declinati in maniera diversa, insomma io mi fiderei più di tutti forse di Tria che ministro dell'economia anche se in questa fase non mi sembra che sia quello che ha davvero il pallino nelle mani di quello che deve avvenire. Sulla questione della manovra economica ovviamente i giornali cosa fanno? Si interrogano su quali sono gli aspetti principali. Andiamo a vedere una delle prime e cioè quota 100. Mi sembra che sia Enzo Marro oggi sul Corriere della Sera ad affrontarlo meglio degli altri. Sarebbe quota 100 costata 8 miliardi di euro e riguarda 500.000 persone che potranno andare quindi in pensione sommando 62 anni di età e 38 di contributi. Secondo quello che è scritto il Corriere della Sera non potranno essere fatte eccezioni a questa regoletta, cioè dei 62 anni almeno di età, quindi 38 anni scusatemi di contributi. Quindi se uno va a 63 anni dovrà sempre avere 38 anni di contributi e non 37, quindi più che quota 100 si potrebbe chiamare quota almeno 100 se questa sarà la definitiva decisione del governo. Il giornale nota con dati statistici inconfutabili come le pensioni di cittadinanza andranno per la maggior parte al sud. Sono quelle pensioni a 780 euro di cui godranno i pensionati sotto la soglia di povertà. Sul reddito di cittadinanza l'approfondimento mi sembra lo faccia Repubblica un altro giornale dice che o forse lo stesso Corriere della Sera il reddito di cittadinanza riguarda 6,5 milioni di persone. Avranno 780 euro, lo sapete, 1630 euro a famiglia con due figli, ovviamente non devono lavorare, 1630 euro a famiglia, quindi avrà un sussidio di 1630 euro, una cosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo a questi livelli come i grafici oggi del Corriere ma non solo ci fanno vedere. 1630 euro, va bene? Ovviamente il Movimento 5 Stelle sta puntando a far sì che si possa godere del reddito di cittadinanza anche se si dispone della prima casa, quindi il reddito di cittadinanza può anche essere dato a chi dispone della prima casa. Il ministro Castelli, il viceministro Castelli ha invece detto che saranno ammesse soltanto alcuni generi di spese, ad esempio sì al biberone elettronico, no alla tv, al plasma, quindi ci danno 780 euro ma non puoi spenderli per cose che il governo decide non meritevole della vostra attenzione. Orwell, Orwell, io voglio, 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 io sono contro il biberone elettronico e voglio il tv al plasma perché sono un poveraccio e voglio il tv al plasma e quello non lo puoi prendere, no tv al plasma non lo puoi prendere, ma cosa 350 euro un modello dei cinesi che mi hanno venduto quello, no quello non lo puoi prendere perché non lo puoi prendere, certo che non lo puoi prendere perché quelli sono soldi miei, non riesco a capire perché io devo dare i soldi al tempo prendere la televisione al plasma, ma voi vi immaginate sto casino che è sto reddito di cittadinanza fatto in Italia. La pace fiscale è ancora, se volete, più un casino e sapete perché? Perché solo le 24 ore calcoli in 871 miliardi le cartelle ancora non riscosse, cioè non incassate dallo Stato. Il 96% di queste cartelle effettivamente riguardano cartelle sotto i 100.000 euro, cioè quelle che dovrebbero essere interessate dal condono fiscale, ma due terzi di questi 870 miliardi di euro sono di grandi evasori, cioè di gente che ha sopra i 100.000 euro di cartelle esattoriali, quindi non si riesce a capire come riescono a fare tutti questi soldi. Hanno ucciso, è una tragica storia, è la seconda di oggi, un giovane ragazzo di 18 anni, tragica, orrenda, incredibile, omicidio colposo da parte di un cacciatore con una doppietta di un ragazzino di 18 anni col carne che venne scambiato per un cinghiale e quindi è una roba che non può che preoccuparci. Detto questo il ministro Costa, subito il ministro dell'ambiente, del generale, via le doppiette la domenica e i giornali che ce l'hanno con la caccia subito a dire la strage infinita. Gravi, gravi, ogni morte è grave, però in Italia sono morte 22 persone di cui 20 cacciatori e due civili uccisi dalla caccia. Allora, anche un morto è troppo, eh? Sia chiaro, lo diciamo chiaro, così non voglio essere criticato da tutti quanti voi, anche un morto, anche un ferito è troppo. Ma da questo a dire che c'è un'emergenza che questi cacciatori ammazzano tutti quanti, forse, insomma, ci passa un po' il male, diciamo così. Costa, però, fuori le doppiette, non vogliamo più la caccia. Benissimo. Manifestazione del PD è l'apertura di Repubblica che titola La sinistra è tornata in piazza, beh, insomma, non tutti la pensano così. Flop della sinistra titola Feltri la domenica delle salme sul Libero e il fatto dice, Renzi prova a dividere di nuovo la sinistra perché ci sarebbe una divisione all'interno del PD tra quelli filo Movimento 5 Stelle e quelli che il Movimento 5 Stelle non possono. Foto, è stato un flop, non è stato un flop della sinistra in piazza? Io penso che qua si occupano tutto della sinistra in piazza e del fatto che loro riescano o non riescano a fare il congresso ma se non hanno un'idea e non hanno un leader sarà molto difficile scansare un governo che mi sembra di idee e di leader più o meno d'accordo con voi. Tommaso Saveri, il PD è morto, c'è perfettamente ragione e allora anch'io penso, come loro, che dedicare pagina e pagina a questa manifestazione in cui non riesco a capire cosa è uscito, qual è il criterio, cosa serve per dire cosa hanno detto. Poi la sintesi è, si sono visti in piazza, sempre tra di loro, sempre con i loro, ma cosa hanno detto? Cosa è cambiato? Cosa è successo? Ciao Paolo. Ultime due cose, diciamo, di contorno. Un'intervista a Steve Bannon di Giuliano da Empoli molto interessante oggi sul foglio e vi consiglierei di leggerlo perché è fatto in maniera molto elegante e anche abbastanza interessante senza i grandi pregiudizi che uno si aspetterebbe dal foglio in questa materia e poi è una piccola cosa personale perché sono un appassionato del trono di spade, beh, insomma, oggi Lord Tyron Lannister viene, cioè il nano sostanzialmente, il simpaticissimo nano viene intervistato, mi sembra, da Repubblica. Ora dico basta i ruoli che ridicolizzino la mia altezza e il titolo di Repubblica, ovviamente nel pezzo non si parla di questa stronzata, ma si parla di un grande attore che ha avuto una vita molto complicata e molto interessante, Lord Tyron. Ovviamente me lo ricordo come Lord Tyron, oppure vi ricordate, insomma, di tante altre ruoli di nani in film che più o meno abbiamo visto tutti quanti noi. Bene, hanno detto che non vogliono tutelare, quando uno è, vabbè, una pagliacciata, ma i piedini sorgeranno, i piedini sorgeranno sempre, buongiorno anche a te Girolamo, qualche ultima lettura a voi. Io direi che l'appuntamento lo do questa sera alle 21.30 sul Rete4 per l'intervista a Di Maio e per cercare di capire con lui un po' meglio questo reddito di cittadinanza e questa manovra da 40 miliardi. Ciao!